Signore e signori, buongiorno. Benvenuti a questa conferenza stampa che vede per un evento e per un incontro davvero speciale, vede riunite a questo tavolo le tre realtà leader nell'ambito dell'alta formazione musicale italiana e nel rapporto tra questa, l'alta formazione e le forme di produzione e di spettacolo dal vivo del grande repertorio musicale. Si tratta dell'Accademia Chigiana di Siena, dell'Accademia Internazionale Incontri col Maestro di Imola e della Scuola di Musica di Fiesole. A questo tavolo, a rappresentare queste tre istituzioni ora, ma poi successivamente ci saranno anche altri a rappresentarli, alla mia destra il Maestro Giovanni Puddu, in rappresentanza per questo primo turno, per questo primo giro, in rappresentanza dell'Accademia Internazionale di Imola. A fianco del Maestro Giovanni Puddu, la dottoressa Anna Ravoni, sindaca di Fiesole e presidente della Scuola di Musica di Fiesole, in questa veste chiaramente qui oggi con noi, e alla destra della dottoressa Ravoni il dottor Carlo Rossi, presidente dell'Accademia Chigiana di Siena e anche presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Ora siamo qui riuniti per, dicevo, introdurre e presentare un bellissimo progetto, un progetto che raccorda sinergicamente queste tre realtà. In un'Italia dove questo tipo di iniziative sono assai rare e dove spesso vige la più sfrenata e a volte insensata competizione. È bello quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi questa mattina. Dicevamo con il suo intendente dell'Accademia Internazionale di Imola, la dottoressa Angela Gidaro, oggi è un giorno di festa, è vero, lo è. E noi siamo felici in questa festa, questo 18 settembre, una giornata molto importante, di festeggiarla con questo incontro che sancisce l'unione tra le tre realtà all'interno di un progetto che abbiamo definito con il nome di FAMIT. E adesso lo spiegherà, comincerà a spiegarlo e poi lo spiegheremo durante questo incontro, a cominciare appunto dal maestro Giovanni Pudu, che è qui alla mia destra, e a cui cedo molto volentieri la parola. Nicola, molte grazie. Dunque, in primo luogo mi corre l'obbligo di ringraziare il presidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Roberto Fico, il questore anziano della Camera Alta, l'onorevole Gregorio Fontana e il suo collegio dei questori della Camera Alta di Montecitorio e naturalmente l'ufficio stampa e il dottor Moreno Marinozzi, che ci ospita per la presente conferenza stampa. Nicola Sani diceva che oggi siamo particolarmente lieti, in quanto presentiamo la federazione tra le accademie musicali italiane di tradizione. per quale motivo è estremamente importante avere dato vita a un processo federativo strutturato da organi interni comuni tra l'Accademia Chigiana di Siena, l'Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola e la Scuola di Musica di Fiesole? Provo a spiegarlo rapidamente. In primo luogo, in quanto nel nostro paese, lo diceva l'amico maestro Nicola Sani, mancava un network delle eccellenze formative artistico-musicali, un network di competenze, professionalità, infrastrutture, tanto fisiche quanto tecnologiche. E sapete quanto c'è bisogno oggi anche di questo. Un network in grado di garantire un robusto tessuto connettivo tra l'altissima formazione musicale, che è la mission costitutiva delle nostre tre fondazioni accademico-musicali, ed il mondo del lavoro musicale, che sta subendo un'evoluzione caotica, disordinata, per riprendere le parole di Nicola. E rispetto al quale la FAMIT può costruire dei modelli di riferimento da adottarsi come best practice in Italia ed in Europa. C'è una seconda ragione per la quale è stato importante dar vita alla FAMIT. Serve rappresentare un punto di riferimento, a giudizio di chi vi parla, nello svecchiamento dell'offerta di spettacolo dal vivo, di produzione e circuitazione delle attività concertistiche, originando uno spazio del tutto nuovo per la creatività dei giovani compositori e per l'intelligenza interpretativa e la virtuosità dei nuovi concertisti. Affinché si comprenda che un network di questa natura rappresenti un elemento di vigoroso scotimento verso il panorama italiano della programmazione, delle fondazioni idrico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, garantendo un rinnovato placement ai nostri meravigliosi, fatemi dire, meravigliosi giovani musicisti che si formano nell'ambito FAMIT. Solo una nuova soggettività, capace di porre in gioco tutto il peso ed il prestigio delle istituzioni che la compongono, avrebbe potuto assicurare questo ad un contesto come quello dell'offerta artistico-musicale di spettacolo nel nostro Paese, adagiato su consuetudini, a giudizio di chi vi parla, che non remunerano più, non remunerano più il capitale pubblico che lo Stato investe nel settore. Siamo nati per questo, in quanto grandi accademie di respiro internazionale, e ci siamo uniti per questo, come FAMIT. C'è una terza ragione per la quale era indispensabile nascesse la FAMIT. Possiamo disporre in Italia, e non solo in Italia, in Italia e non solo, di veri e propri strumenti musicali comuni. le nuove leve dell'orchestra giovanile italiana, che è la compagine sinfonica Principe Lorenzo della Scuola di Musica di Fiesole, che il compianto Ennio Morricone amava definire come formidabile patrimonio del nostro Paese, il coro Guido Chigi Saracini, creatura dell'Accademia Musicale Chigiana, che oramai viene annoverato tra i concerts polifonici di maggiore spessore del continente europeo. I nostri formidabili solisti, uniti nell'inscindibile comunità, perché si tratta di questo, di una comunità umana ed artistica, composta dai grandi maestri, della composizione e dell'interpretazione, musicale, ovviamente, e dai nuovi concertisti, che si formano nelle tre Accademie Sorelle della FAMIT, per veicolare il suono organizzato, un suono non qualunque, un suono organizzato, un suono italiano, e perciò stesso, poiché è italiano, un suono che ammette solo avanzamenti qualitativi, non consente arretramenti, sotto nessun profilo, risiede in tutto ciò che ho tentato di porre in luce, il messaggio che la neonata FAMIT intende trasmettere al nostro Paese e agli Stati membri dell'Unione Europea. Vedete, tutto il mondo, perché questo è dire il vero, tutto il mondo conosce le nostre tre eccellenze, e doveva ben giungere un momento di fioritura corale, di esperienze così storicamente consolidate. Come accade, non so, nella musica da camera, da musicista dico, il trio con pianoforte, se si pensa, parafrasandola, alla rivoluzionaria intuizione didattica che ha fatto nascere l'Accademia Internazionale di Imola, 40 anni or sono, il trio con pianoforte, che è la FAMIT, seguitando, diciamo, nella metafora tecnico-musicale, che è la FAMIT oggi, viene dunque ad assumere i sembianti di un network pilota per l'Unione Europea, per l'Unione Europea, e correlativamente un ponte di dialogo verso il mondo ed il suo futuro, come ama ripetere l'amico presidente Corrado Passera, che ho qui il piacere di rappresentare e che pogge a tutti voi il proprio saluto. E, andando verso la conclusione di questo mio intervento introduttivo, vorrei anche anticipare qualcosina che verrà in appresso illustrata compiutamente dagli amici relatori. La FAMIT ha presentato al Ministro per i beni e le attività culturali Accordo Maggiore 2020, il proprio nuovo progetto speciale. Vado diritto al punto, diritto al punto, una sezione del nostro articolatissimo, peraltro, progetto speciale, è costituita da un ciclo concertistico di grande spessore che abbiamo voluto denominare munera. Già, munera. Un tributo non materiato di parole a tutti coloro i quali si sono occupati delle nostre vite, mentre la vita del Paese sotto l'attacco di un'entità nuova e sconosciuta doveva andare avanti. Un tributo ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario. Abbiamo organizzato 21 concerti, pensate, 21 concerti. 21 concerti solistici e cameristici nei luoghi di cura. Non starò a ripercorrere ovviamente uno ad uno questi luoghi di cura. 21 concerti tutti differenti ed originali, cioè produzioni FAMIT del progetto speciale Accordo Maggiore 2020 che rimbalzeranno dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna all'ospedale Careggi quindi a Firenze, dall'ospedale delle Scote di Siena all'ospedale di Santa Maria della Scaletta a Imola. Ci pareva a tutto ciò la più alta testimonianza di solidarietà questo far uscire la musica dai Sancta Sanctorum di teatri auditoria storiche e blasonate sale da concerto e riportarla nei luoghi dove si lavora 24 ore al giorno combattendo soffrendo e dove la speranza si mescola quotidianamente purtroppo alla morte. Una delle più alte espressioni della vita dell'uomo la musica noi della famiglia vogliamo intenderla anche così. Grazie. Grazie maestro Puddu di questo bel intervento introduttivo colgo l'occasione per salutare anche tutti coloro che ci seguono tramite la web tv della camera e quindi a distanza veramente un'introduzione ideale come avete già potuto comprendere stiamo parlando di qualcosa che si crea come spazio nuovo mi ha colpito questa definizione del maestro Puddu uno spazio nuovo in cui ognuno di noi porta la sua esperienza una grande esperienza se pensiamo alla storia di queste tre grandi istituzioni importantissime istituzioni italiane per creare uno spazio in più per creare uno spazio altro che non solo valorizza ma potenzia le espressioni e le esperienze di ogni singolo di ogni singolo di ogni singola istituzione mi ha colpito anche la citazione del suono organizzato le parole di Edgar Vares che continuano ad accompagnare la nostra esperienza un'esperienza che è consapevole del proprio intervento all'interno della musica e attraverso la musica nelle problematiche dell'oggi la musica non è esterna la musica è interna ai processi ai grandi processi culturali e sociali del nostro vivere e così naturalmente la solidarietà e così il fatto che la musica sia vicina a chi soffre e che la musica sia vicina agli ultimi questo deve far parte e fa parte del DNA della FAMIT fin dalla prima iniziativa che naturalmente poi brevemente illustreremo e ora ho il piacere di dare la parola alla presidente della scuola di musica di Fiesole la dottoressa Anna Ravoni grazie ma sì sono qua rappresentare appunto sono qua in qualità di presidente della scuola di musica di Fiesole però ovviamente ho la doppia veste anche di sindaco di Fiesole e in questa veste appunto sono molto felice in ambedue le vesti ma anche soprattutto in quella di sindaco sono molto felice di questo accordo di FAMIT perché credo che in questo modo con le sinergie appunto che si riescono a creare fra con le sinergie si riescono a creare fra le tre realtà qua presenti appunto l'Accademia Chigiana l'Accademia di Imola e la Scuola di Musica di Fiesole si riuscirà a costituire davvero un polo internazionale per la creazione della futura generazione di musicisti e quindi permettendo in qualche modo anche all'Italia di garantire un percorso formativo d'eccellenza che già in altre parti d'Europa c'è quindi ne sono veramente contenta ma la Scuola di Musica di Fiesole rappresenta una parte importante per il Comune di Fiesole della della struttura del Comune di Fiesole è la realizzazione di un sogno quello di Piero Farulli mitico appunto fondatore della scuola che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere che ha portato l'amore per la musica a voler far sì che la musica fosse conoscenza di tutti alla stessa stregua dell'italiano della matematica delle varie nozioni che si possono insegnare nelle varie scuole la musica lui diceva è la completezza di questa crescita e quindi ecco oggi dopo 46 anni la Scuola di Musica di Fiesole con i suoi 160 insegnanti e oltre 1600 allievi porta avanti proprio questo concetto di Piero e di questo appunto ne sono ne sono felice ma la Scuola di Musica di Fiesole si caratterizza anche per un sistema organizzato didattico che va dagli 0 anni ai 100 anni potrei dire nel senso noi abbiamo delle classi appunto di bambini proprio giovanissimi piccolissimi a cui è ovvio che non possiamo insegnare la musica ma che incominciamo a avvicinare a questa bellissima esperienza e poi appunto le varie classi i vari tutto il percorso formativo che costituisce un bel curriculum per i ragazzi e vorrei anche qui ricordare però una nostra espressione molto importante a cui teniamo molto l'orchestra giovanile italiana che è il primo progetto del nostro paese che è stato espressamente dedicato alla formazione dei professori d'orchestra e che dagli anni 80 rappresenta una tappa obbligata per gli strumentisti che in qualche modo desiderano intraprendere l'attività dell'orchestra ecco quindi noi ci presentiamo e uniamo le nostre forze le nostre esperienze alle altre due importanti istituzioni con cui appunto ripeto sono oratorata di essere insieme proprio per un percorso globale per un percorso strumentale musicista tutti insieme riusciremo sicuramente a fare qualcosa di bello per l'Italia qualcosa che sarà a disposizione di tutti del panorama europeo quindi ringrazio i miei accompagnatori diciamo di percorso e sono convinta e ci ritroveremo tante volte in questa bella realtà grazie ringrazio la dottoressa Ravoni il suo bell'intervento che testimonia anche dell'entusiasmo di come anche la scuola di musica di Fiesole partecipa a questo progetto e appunto con una anche con l'apporto importantissimo di questa compagine strumentale l'orchestra giovanile italiana che è una delle punte di diamanti senz'altro della produzione musicale italiana di oggi prima di dare la parola al presidente dell'accademia chigiana Carlo Rossi voglio ricordare appunto che lo scorso anno l'accademia chigiana e l'accademia internazionale incontri col maestro di Imola avevano già dato luogo a un primo progetto congiunto quindi l'idea di lavorare nel network in un network è partita appunto già lo scorso anno quest'anno con la creazione della FAMIT e il rafforzamento dovuto anche al prezioso ingresso nel gruppo A3 appunto in questo accordo maggiore che abbiamo simbolicamente con il nome con il quale abbiamo voluto simbolicamente nominare il primo progetto sicuramente questo network prende ancora più energia e ancora più significato presidente Carlo Rossi grazie buongiorno a tutti anche io ringrazio tutti coloro che hanno fatto hanno reso possibile questo appuntamento in questo luogo così importante e insomma mette anche un po' di soggezione francamente ma sono molto contento di essere qui perché diciamo è una testimonianza è la testimonianza di un percorso come accennava ora in ultimo il maestro Sani di collaborazioni e iniziative che abbiamo già svolto insieme e che abbiamo visto possono essere feconde di grandi risultati per questo ci siamo strutturati attraverso questa federazione di cui vi è stata data alcune indicazioni e stiamo lavorando a progetti comuni naturalmente senza dimenticare ciascuno le proprie attività l'Accademia Chigiana è una realtà nata a Siena e cresciuta a Siena fin dagli anni 30 quindi insomma ci avviciniamo a compiere 100 anni ed è una realtà che ha sempre fatto dell'alta formazione della formazione di eccellenza la sua ragiondesse e questo di questo da presidente protempore ma anche da senese ne sono onestamente particolarmente orgoglioso perché è certamente una delle caratteristiche dei distintivi particolari di questo territorio di Siena e del suo territorio aver costituito questa federazione è stata un modo come dire una scommessa per contaminarsi perché riteniamo che oggi il mettersi insieme come si usa dire il fare rete sia un valore un valore in sé è stato accennato ai particolarismi che ci sono in tutti i campi quindi anche nel campo della cultura e dell'arte ecco noi questo tipo di la progettualità insomma che vuole esprimere questa federazione va in senso opposto cioè quello di appunto della contaminazione del fare rete del mettere insieme le competenze e le capacità di ciascuno in una prospettiva di complementarietà con un obiettivo che è quello di valorizzare al massimo tutti i talenti soprattutto giovanili nel campo della musica naturalmente ma verso i quali abbiamo una grande attenzione e una grande passione nel 2019 l'Accademia Chigiana ha visto circa 500 partecipanti giovani ai suoi corsi estivi provenienti da 50 paesi diversi nel 2020 per ovvie ragioni di pandemia il numero dei partecipanti è stato di poco inferiore e però abbiamo sperimentato una iniziativa molto importante che mettiamo naturalmente a disposizione di tutti che è quella di anche un'attività formativa a distanza abbiamo realizzato grazie al lavoro del maestro Sani il nostro direttore artistico e del nostro direttore generale direttore amministrativo dottor Armietto e tutti i loro collaboratori abbiamo realizzato una piattaforma tecnologica che consente di fare formazione a distanza di poter come dire utilizzare tecnologie molto avanzate e naturalmente il suono la musica non è la stessa cosa di una videoconferenza in cui si parla ma è una cosa ben diversa ecco siamo riusciti a realizzare questo a metterlo a disposizione dei nostri giovani e continueremo a farlo naturalmente questo non intende non vogliamo minimamente sostituire la didattica la formazione tra i grandi maestri che la chisiana ha sempre ospitato e gli allievi di persona insomma ma però questo può anche aprire forse qualche qualche prospettiva interessante no perché magari possiamo così connettere soggetti anche che possono avere qualche difficoltà anche magari di spostamento a venire a Siena quindi riteniamo che questa iniziativa sia e il nostro lavoro di tutti e tre queste eccellenze nazionali sia un contributo alla ripartenza del paese perché crediamo fermamente come sottolineava il presidente Mattarella diciamo che la ripresa sia accompagnata diceva da una nuova esplosione di creatività di cultura di arte e di bellezza ecco questo noi vogliamo dare il nostro piccolo ma significativo importante contributo perché riteniamo che oggi abbiamo anche questo dovere grazie presidente Carlo Rossi è anche significativo sottolineare che un altro elemento che accomuna queste tre realtà queste tre importantissime istituzioni italiane dell'alta formazione della produzione musicale italiana rivolte soprattutto al mondo dei giovani al mondo delle nuove generazioni e alla trasmissione della grande eredità del grande patrimonio culturale musicale alle nuove generazioni in tutto il mondo queste tre realtà non si sono fermate durante la pandemia durante il periodo più duro del lockdown hanno continuato a interagire hanno continuato a programmare e a progettare queste state i corsi estivi dell'Accademia Chigiana si sono regolarmente tenuti con in residenza l'orchestra giovanile italiana della Scuola di Musica di Fiesole con l'Accademia di Imola sono proseguite tutti gli scambi e naturalmente anche l'Accademia di Imola ha proseguito le proprie attività ha progettato ha realizzato questo ha proprio l'idea di non arrendersi di non fermarsi di continuare a testimoniare con la propria attività il presente e la nostra volontà di trasformare la società in positivo tramite i grandi valori del patrimonio che il patrimonio musicale ci ha assegnato e ci ha lasciato questo è qualcosa è un compito a cui riteniamo di non venire meno in nessun modo e in ogni caso per questo anche siamo qui per questo siamo insieme credo che siano valori che è importante ricordare bene ora ringrazio i partecipanti di questo primo turno di dialogo di discorso e invito sul palco a intervenire Angela Gidaro sovrintendente della Scuola dell'Accademia Internazionale di Imola il dottor Angelo Armiento direttore amministrativo direttore generale dell'Accademia Chigiana e il dottor Lorenzo Cinatti direttore sovrintendente della scusate sovrintendente della Scuola di Musica di Fiesole allora Angela Gidaro alla mia destra il compito di intervenire per prima ricordando proprio che cosa rappresenta per la scuola per l'Accademia di Imola e per tutti noi la FAMIT grazie buongiorno a me l'opportunità di poter inquadrare il progetto FAMIT all'interno del processo di internazionalizzazione che inevitabilmente coinvolge le nostre scuole e il mondo musicale nel grande progetto comunitario dell'Unione Europea il progetto FAMIT è stato già egregiamente rappresentato dalla governance che ci ha preceduto e sono contenta di parlare di internazionalizzazione proprio perché l'Accademia di Imola è nata con questo grande impulso di un confronto globale da poter offrire ai giovani talenti grazie all'incontro con personalità provenienti da tutto il mondo le linee europee parlano chiaro già il progetto Europa Creativa 2014-2020 ha indicato e ha sollecitato tutta la comunità a unirsi in network questo per molteplici aspetti e anche quello importantissimo della sostenibilità l'Italia si è mossa timidamente in questo primo bando ma noi in questa parvenza di immobilità in realtà abbiamo iniziato a dialogare e abbiamo avuto l'idea di costituirci noi stessi come network per poterci presentare forti in Europa specialmente nel prossimo bando e ci siamo noi costituiti federazione perché vogliamo puntare così dare luce a quella che è la cifra specifica italiana che è l'eccellenza questa unione ci consente di mostrarci un'Europa e di unirci ad amici europei come capofila della qualità mi permetto di fare due osservazioni prima di congedarmi la prima che condivido con gli amici sovrintendenti in Italia la scienza del management musicale e culturale sta nascendo in questi anni noi ci siamo ritrovati a gestire eccellenti realtà che sono nate dall'impulso di singoli visionari di cui la storia a cui la storia rende gloria e onore ma in realtà noi abbiamo l'obbligo di consegnare questa tradizione al futuro per farlo dobbiamo codificare dei processi strutturare le nostre le nostre scuole e insieme agli amici Angelo e Lorenzo condividiamo anche le fatiche di questa impresa che è notevole ma è un'impresa che essa stessa chiama al network dobbiamo fare bene e dobbiamo fare bene insieme infine l'altra riflessione che mi preme riprendendo l'osservazione dell'amico maestro Giovanni Puddu noi abbiamo due utenze a cui rivolgerci noi siamo prima di tutto delle scuole e la nostra utenza sono i nostri amatissimi giovanissimi allievi e la seconda è il nostro pubblico perché grazie a ciò che produciamo riusciamo a metterci anche nel mondo della produzione dello spettacolo dal vivo le esigenze delle due utenze sono diverse i nostri allievi ai nostri allievi dobbiamo garantire solide basi di formazione ai nostri al nostro pubblico dobbiamo garantire piacevolezza nella fruizione dello spettacolo e quindi a noi il compito di armonizzare esigenze diverse e quindi è ovvio che nasce il tema anche del rinnovamento della didattica del rinnovamento dell'immissione nel mercato del lavoro dei nostri giovani concludo con una riflessione del tutto personale stiamo attenti però a non confondere l'esigenza del rinnovamento con l'incapacità di dare della qualità perché il rinnovamento deve passare dalla qualità la qualità quella di cui parlavo all'inizio in merito a ciò che l'Italia può rappresentare e quindi troppo spesso ci cerca altro perché quel che è proposto non è di qualità e quindi concludo riprendendo le parole del mio presidente Corrado Passera noi abbiamo l'obbligo e il dovere di consegnare integri integra la nostra arte e la nostra tradizione alle nuove generazioni e Famit sarà un ottimo stimolo grazie grazie dottoressa Gidaro questa prospettiva europea è esaltante ed è una prospettiva europea a cui sicuramente la Famit si presenta con le carte in regola dovute proprio alla straordinaria preparazione efficacia storia ma anche realtà che contraddistingue l'altissimo livello di eccellenza a cui si muovono le tre compagini qui rappresentate vedete Famit intercetta le direttive europee che sono che vanno nella direzione del networking come grande strumento di cooperazione sinergia e coproduzione questo è un fatto al quale troppo troppe volte il nostro paese si è trovato impreparato nei confronti di questa linea perché non vuol dire soltanto collegarsi vuol dire interagire vuol dire creare delle iniziative sinergiche penso ai grandi network di produzione dei centri di alta tecnologia francesi penso ai grandi network di coproduzione in Europa tra fondazioni lirico sinfoniche insomma tutto quello che va nella direzione del mettere insieme le risorse per produrre un risultato che è n volte superiore alla somma degli addendi delle forze in campo tutto questo va nella direzione appunto di quel processo sinergico che le direttive europee stanno con forza sottolineando e che come diceva appunto giustamente Angela Gidaro la FAMIT fa proprie ma fa proprie con grande consapevolezza e ragione d'essere quindi accanto a questo c'è naturalmente tutto un lavoro molto come possiamo dire forse meno evidente ma qualche cosa che sta in un background di preparazione fondamentale di tutto il rapporto anche con il mondo esterno e con la società di cui immagino ci parlerà il dottor Angelo Armiento direttore amministrativo dell'Accademia Chigiana Sì ti ringrazio Nicola buongiorno a tutti sì anch'io volevo fare una piccola riflessione su quello che diceva Angela Gidaro poco fa noi siamo uniti come istituzioni musicali che hanno come onere statutario proprio quello di fare dell'alta formazione la loro ragion d'essere e quindi anche dell'eccellenza la loro ragion d'essere e questo significa che i ragazzi che vengono a Siena per esempio si sente? chiedo scusa si sente adesso? stavo dicendo che il nostro obiettivo è quello di far sì che i nostri ragazzi i ragazzi che vengono a Siena a Imola a Fiesole abbiano la possibilità di formarsi ma abbiano anche la possibilità di avviare la propria carriera verso un percorso luminoso appunto che noi auguriamo a ciascuno di essi su questo la famita già posto come un obiettivo molto importante quello di costruire appunto una serie di progettualità comuni proprio per garantire questo percorso prima si diceva appunto il maestro Pudur ricordava la costituzione del proprio tessuto connettivo fra l'alta formazione e il mondo del lavoro musicale dello spettacolo musicale che deve essere anche un mondo in cui questi ragazzi abbiano diritto a un lavoro retribuito in modo idoneo rispetto a quelle che sono le loro capacità e potenzialità e su questo noi ci stiamo impegnando singolarmente lo faremo sempre di più insieme creando appunto nuovi percorsi per consentire a questi ragazzi di avviare di esibirsi in nuovi concerti ma anche davanti a un pubblico sempre più ampio e qualificato questo significa voglio sottolinearlo su questo perché non basta secondo me e secondo noi avere soltanto più concerti e più esibizioni da offrire ai nostri ragazzi noi dobbiamo anche vedere chi c'è dall'altra parte cioè chi è seduto nella platea questa è una cosa su cui ci stiamo riflettendo da qualche tempo significa avere un pubblico che sia appunto ampio quindi sempre più persone di diverse fasce d'età di diverse istituzioni sociali che abbiano la capacità di capire e di interpretare anche la musica d'arte apprezzare la musica d'arte rispetto ad altre forme di spettacolo che gli vengono offerte in questo momento e su questo penso che l'attività delle nostre federazioni sarà avevamo già pensato per il 2020 di fare alcune cose ma che a causa del covid sono state rinviate ma che penso riprenderemo immediatamente nel 2021 e quindi riteniamo che di doverci anche presentare come un polo anche culturale come un forum permanente che si incarichi di studiare di promuovere di realizzare delle nuove modalità di sensibilizzazione di educazione musicale diffusa fra tutti i nostri cittadini e concittadini per fare in modo appunto che sempre più fasce della società italiana possano appunto apprezzare la musica d'arte a partire dalle aree di maggiore sofferenze e marginalità sociale e culturale questo è uno degli impegni che noi abbiamo assunto e penso che uno dei primi ambiti in cui andremo ad operare su questo eravamo d'accordo tutti sarà proprio quella dell'individuazione di iniziative maggiormente incisive forse all'interno del sistema scolastico ed educativo di questo paese quindi anche su questo noi ci candidiamo a essere in qualche modo grazie alle competenze alle professionalità alle risorse anche alle infrastrutture che abbiamo messo in piedi un punto di riferimento per la nostra nazione e anche in prospettiva per l'Europa intera grazie grazie dottor Almiento pare una prospettiva veramente anche questa importante non perdiamo di vista quello che è proprio il rapporto con la crescita della società non possiamo soltanto limitarci alla parte diciamo scenica oltre che a quella formativa ma dobbiamo anche pensare a quale mondo a quale contesto noi parliamo e soprattutto portarlo sempre più avanti l'orchestra giovanile italiana dicevamo della scuola di Fiesole è un punto di riferimento assoluto ed è anche una realtà con cui sono nate rapporti sono nati rapporti interrelazioni da cinque anni ricordavo è l'orchestra in residenza del corso di direzione d'orchestra tenuto dal maestro Daniele Gatti all'Accademia Chigiana di Siena d'estate le rapporti e interazioni sono anche con l'Accademia di Imola insomma direi che sempre più importante e strategico è questo nostro lavorare insieme vero Lorenzo Cinatti? Sicuramente vero benvenuto a tutti naturalmente quando si parla per ultimi e si è preceduti da personalità così importanti e preparate per forza si rischia il rischio di ripetere cose già dette oppure di dirle peggio quindi cercherò un pochino di parlarvi di che cos'è l'orchestra giovanile italiana ma anche chiusare alcune cose interessanti che chi mi ha preceduto ha già detto innanzitutto però vorrei partire portando il saluto del maestro Alain Ménier che è stato il direttore artistico della scuola di musica di Fiesole per questi quattro anni e che non può essere qua scadrà il suo mandato con la fine di settembre e il saluto e anche un ringraziamento mio personale perché ha partecipato a questi lavori che ci hanno portato sia da un punto di vista artistico all'individuazione del progetto speciale a cui faceva riferimento il maestro Puddu ma ha dato anche mi sento di dire uno spirito positivo una voglia di fare che a volte ha sostenuto anche chi come me e come noi che stiamo qua si occupano delle cose un pochino più più dure quindi dandoci una prospettiva che dall'artistico passava al manageriale raccontandoci magari anche come appena accennava Angela a che cosa succede oltre Alpe detto questo la presentazione di questo progetto e di questa costituzione di questa federazione arriva anche in un momento particolare che mi piace ricordare perché oggi quest'anno il 2020 è l'anno farulliano l'anno in cui il maestro Farulli nasceva cent'anni fa e credo che il maestro sarebbe molto felice anzi sarà ovunque esso sia molto felice di questo lavoro perché questa federazione credo che possa dare la possibilità alla scuola di musica insieme a questi partner così importanti e mi sento di dire tra virgolette così amici di valorizzare una serie di creature che lui ha fatto in primis la scuola di musica di fiesola è nata nel 74 ma per l'appunto l'orchestra giovanile italiana dovete sapere che l'intuizione di Farulli per quanto riguardava l'orchestra giovanile italiana non era soltanto di fare una scuola che preparasse i professori d'orchestra del futuro ma la immaginava già come formazione professionale tant'è vero che i primi fondi messi a disposizione per la creazione dell'orchestra giovanile italiana venivano dai fondi sociali europei per la formazione professionale quindi lui fu talmente geniale se volete tra virgolette anche molto furbo a convincere gli allora dirigenti della regione toscana che quando si parlava di formazione professionale quella della musica non poteva essere derubricata nella cultura e basta ma doveva essere prendere spunto anche anzi doveva attingere anche lì dove si parlava di formazione professionale di professioni riconosciute come normalmente più vili ed era un ribaltamento importante perché spesso e volentieri i nostri allievi o almeno mi raccontano a me che quando in qualche cena gli viene chiesto che lavoro fai e loro rispondono il musicista gli dicono sì ma quello vero ecco il lavoro del musicista è un lavoro vero che ha necessità questo devo dire un po' di tutto il comparto culturale come per l'industria di interventi concreti e non spot e forse la FAMIT nasce anche da questa necessità è un'infrastruttura si pone come infrastruttura questo è importante comprenderlo è un'infrastruttura e di questo tipo di infrastruttura culturale ha necessità il nostro paese ma soprattutto i nostri giovani in quasi in oltre 40 anni di scuola abbiamo tutti i registri e li seguiamo anno a anno la scuola scusate l'orchestra giovanile italiana ha sostanzialmente messo in orchestra a lavorare nelle varie orchestre nazionali e qualcuna anche internazionale oltre un migliaio di ragazzi io credo che sia un risultato che qualsiasi altra realtà di di formazione che magari che ne so si occupa di pizzaioli di fuochi sarebbe tutti i giorni sulle pagine dei giornali ma incominciare a immaginare davvero occuparsi delle giovani generazioni e come faceva riferimento Angelo a formarli spesso e volentieri la formazione viene intesa come un lavoro per i formatori noi dobbiamo incominciare invece a pensare che la formazione è per i formatori che devono essere sempre all'altezza ma noi dobbiamo preoccuparci il giorno dopo cosa fanno i nostri ragazzi e la famite da questo punto di vista ha una responsabilità grande che se sarà sicuramente sostenuta dalle istituzioni potrà svolgere noi non possiamo continuare a formare ragazzi che il giorno dopo non trovano lavoro o sono sottopagati o sono lavoratori al nero o peggio ancora diventano dei frustrati questo se è come diceva il presidente Franco Rossi l'anno in cui dobbiamo pensare alla ripartenza si riparte dalle giovani rivelazioni noi probabilmente siamo sulla linea del piave stiamo leggendo il covid ma come stiamo leggendo la linea su tanti altri aspetti dell'economia ma dobbiamo essere noi infrastruttura che prepara il futuro a questi ragazzi ci occupiamo tutti di formazione sappiamo quanto è importante mettersi degli standard europei sappiamo che gli obiettivi ci siamo dati sono difficili ma se io penso in questi anni in cui con il nostro consiglio d'amministrazione con la mia presidente abbiamo retto botte incredibili per reggere il lavoro dell'orchestra giovanile italiana è perché in mezzo anche ai tormenti e alle onde alte della poca speranza della sostenibilità abbiamo pensato che sarebbe arrivato un giorno che tutti questi sacrifici avrebbero avuto un senso ma sono i sacrifici che noi facciamo in prospettiva pensando a cosa faranno i ragazzi che sono passati da noi quindi questo credo che sia lo spirito importante con cui Fiesole partecipa ma mi sento di dire che in questi mesi quasi anni in cui siamo stati insieme condividiamo per chiudere la questione delle infrastrutture e chiudere anche il mio intervento perché ormai siamo come dicevo prima le cose importanti sono state dette non si fa politica culturale se non la si immagina appunto come anche in parte politica metaforicamente industriale se non ci sono le infrastrutture se non c'è la sostenibilità perché non possiamo nemmeno e spesso diciamocelo nel nostro settore ma non nella formazione ma in quello dello spettacolo si assiste a volte a iniziative tra virgolette capricciose che non hanno la sostenibilità e con la scusa delle nuove generazioni sottraggono fondi alle nuove generazioni per la formazione è evidente che la sostenibilità è importante da questo punto di vista ci siamo tutti noi attrezzati ora ci ritroviamo insieme però per chiudere l'ultimo elemento della politica culturale oltre la sostenibilità sono le risorse perché un progetto di questo tipo qua ha necessità di risorse se questi tre elementi e se ne potrebbero aggiungere altri sapremo e sapremo farli comprendere all'esterno saranno garantiti io sono certo che FAMIT e le nostre scuole le nostre scuole brava ma anche io preferisco scuole per quanto accademia anche se la qualità è di un'accademia sapranno essere un presidio culturale importante nel senso del futuro di questo paese di questo ne sono certo come sono certo che sempre per le politiche culturali e chiudo davvero sono importanti fare dei distretti industriali noi stiamo costruendo un distretto di questo tipo qui e credo che da questo punto di vista stiamo dando anche un esempio al resto di una parte del mondo culturale che dalla nostra intuizione deve imparare deve imparare e probabilmente da questo punto di vista potremo anche fare dei pezzi di strada insieme per il momento lunga vita alla FAMIT grazie ancora agli amici che in questi mesi hanno lavorato ma mi sento di dire che il bello inizia proprio ora grazie grazie Lorenzo Cinatti è proprio vero io penso che quello che sta accadendo qui è qualcosa di cui è difficile prevedere gli esiti per questo è fortemente sperimentale il nostro agire vedete sperimentale significa attivare un'azione di cui non è possibile prevedere in tutte le forme in tutte le definizioni gli esiti e noi penso che quello che noi stiamo facendo ora avrà degli esiti straordinariamente imprevedibili e che ci porteranno molto lontano perché il potenziale davvero è enorme come dicevamo non soltanto per le compagini delle istituzioni ma anche per tutto quello che queste istituzioni stanno producendo anno dopo anno giorno dopo giorno il lavoro che si fa nelle aule diventa spettacolo diventa rapporto con il sociale diventa trasformazione della società diventa intervento la Chigiana in questi anni negli ultimi cinque anni ha varato una nuova impostazione di cui è forte strumento il festival internazionale estivo di ampia durata di cui sono forte strumento le formazioni in residenza che sono state create prima fra tutto il coro Guido Chigi Saracini in realtà veramente importante come ricordava il maestro Pudu nel suo intervento all'inizio dell'incontro che è anche dato che è dovuto anche a un'altra importante collaborazione quella con l'opera della metropolitana di Siena che quindi si unisce alla Chigiana in questo progetto che dà a Siena la prima grande formazione musicale della sua storia per quanto riguarda il grande repertorio classico quindi tutto questo fa pensare appunto a una capacità una potenzialità progettuale che non è l'incontro tra chi dice faremo l'incontro di chi dice stiamo facendo quindi faremo ancora di più questo è un altro fatto importante non stiamo così prevedendo qualche cosa di cui non siamo perfettamente consapevoli di cui non abbiamo la consapevolezza assoluta di poterla realizzare che è un altro dato molto molto importante così come appunto il nostro primo progetto Accordo Maggiore ci auguriamo che possa essere realizzato ci ritroveremo tutti naturalmente a parlare di Accordo Maggiore quando sarà il momento di poterlo presentare dico solo che appunto riprendendo le parole del maestro Giovanni Puddu oltre ad essere un progetto che guarda anche verso territori della solidarietà naturalmente e di rapporto importante con il sociale con chi ora sta facendo un lavoro straordinario per portare avanti questo paese e tutta la salute di tutti i cittadini in un momento così drammatico davvero che è stato particolarmente drammatico anche alcuni mesi fa oltre a questo naturalmente la nostra sempre proposizione è quella di andare a esplorare la musica in tutti i suoi aspetti dalla musica del grande repertorio storico alla contemporaneità non dimenticare quello che è naturalmente il tratto contemporaneo e ciò che i grandi maestri hanno lasciato nel loro percorso ci era citato prima Ennio Morricone voglio citare Franco Donatoni di cui quest'anno appunto è un importante anniversario di cui desideriamo appunto ricordare sicuramente nel nostro progetto ma anche tutto quello che le tre istituzioni hanno messo in campo e stanno mettendo in campo non ultimo quello che diceva appunto Lorenzo Cinatti poco fa e cioè il sostegno all'avvio alla carriera è importantissimo è uno dei nostri grandi commitment il fatto di accompagnare i giovani non li salutiamo alla fine del corso a rivederci è stato bello ma anzi dare a questa esperienza formativa il senso di un ingresso in una vita lavorativa non semplice e soprattutto per quanto riguarda le dinamiche dello spettacolo e di farlo internazionalmente su uno scacchiere internazionale questo diciamo è uno dei nostri principali diciamo commitment non è soltanto un obiettivo è anche in questo caso testimonianza di esperienze che stiamo maturando già in questi anni che intendiamo sviluppare con maggiore potenzialità quindi grazie a tutti naturalmente se ci sono domande siamo felici di poter rispondere grazie sì certo e se si può presentare per favore io mi chiamo Luca Luccibello sono il direttore della rivista Archimagasin dimestrale per strumentisti ad arco dal 2006 oggi intanto mi insomma vorrei complimentare con le tre istituzioni perché mi metto pure dal punto di vista dei musicisti ma è appena diplomati che rimangono tante volte disorientati pure su come proseguire il proprio percorso di studi artistico abbiamo visto in questi ultimi anni sono nate tantissime nuove scuole di musica accademie come insomma vengono chiamate un po' in tutti i modi per lo più iniziative private che non sono dall'incerto futuro e quindi dove vado a studiare la scuola di musica e Maria ha il nome interessante che presenta quell'anno però l'anno dopo Maria non c'è più oppure appunto mi affida una scuola istituzione più storica come appunto le vostre per fare un nome ecco quest'anno io l'ho scoperto due settimane fa a Roma è nata una nuova accademia in via del corso con una sessantina di docenti veramente di grande nome però appunto chiaramente ci sono delle differenze importanti fra le accademie italiane di tradizione ecco come giustamente volete chiamare voi nuove realtà e quindi appunto una federazione in questo senso importante penso pure per gli studenti ecco per avere un mino di orientamento e capire un po' le differenze ecco venendo alle domande vorrei sapere se avete già preso contatti con altre accademie di tradizione e se pensate appunto di estendere il network oppure altre istituzioni come possono essere Biella la Stauffer o l'Accademia di Santa Sicilia e poi se un'altra domanda invece riguarda un po' se pensate che ci sarà della concorrenza interna abbiamo visto soprattutto per docenti e allievi ad accaparrarsi ma alcuni docenti per esempio abbiamo visto che Imola e Fiesole da quest'anno hanno lo stesso docente di violino allora come come pensate di risolvere un po' questa questione e niente ecco tutto qui grazie non so se qualcuno vuole rispondere forse il maestro Puddu allora puoi farlo al microfono sì sì ah quel microfono lì va bene perfetto Carlo ti dannoia e dottor Lucibello allora sulle questioni che lei ha posto le dico che abbiamo appena terminato l'incontro sostenendo che sostenendo ha ragione no che la storicità delle nostre esperienze che dà vita oggi alla FAMIT è una storicità talmente riconosciuta anche se non è bello dirlo ma oggi qui in questo luogo che rappresenta tutti i cittadini italiani è doveroso dirlo è conosciuta in tutto il mondo la storicità delle nostre esperienze e quindi figuriamoci se noi non siamo aperti come network pilota per l'Unione Europea a collaborazioni in linea con quanto diceva poc'anzi la dottoressa Gidaro a tutto il continente europeo noi saremo il punto di riferimento il punto aggregativo per tutte quelle esperienze che in Europa anche coordinate da noi perché non dirlo perché ogni tanto dottor Luccibello vede è importante essere fieri di essere italiani no? Passera diceva Verdi è italiano Monteverdi è italiano Rossini è italiano Bellini è italiano Michelangelo Buonarrotte è italiano Piero della Francesca è italiano quindi saremo noi nei confronti degli amici europei con i quali siamo già in dialogo come hanno ricordato i sovraintendenti Gidaro Armiento e cinatti a farci carico dell'azione di traino per la costruzione del network europeo e poi non ho ben compreso la razio della seconda domanda ma vede dottor Luccibello nella vita le sliding doors che non ha inventato chi le parla riguardano tutti gli aspetti del vivere civile quotidiano del vivere associato del vivere artistico e musicale quindi queste sliding doors danno luogo a incroci che sono traseunti che sono invece più durevoli e quindi non credo neanche si ponga nemmeno la metà della metà di un problema in ordine al secondo punto che lei ha sollevato c'è anche la dottoressa Gidaro che voleva prendere la parola grazie grazie Luca io volevo ecco fare un'osservazione magari un po' più approfondita sulle nostre offerte formative perché probabilmente si riesce anche un po' a capire come riusciamo a armonizzare anche situazioni laddove ci sia una coincidenza e una collaborazione con i medesimi docenti siamo tre realtà complementari a mio giudizio perché ciascuna se si ha anche un po' la pazienza di andare a conoscere anche nei propri siti nei luoghi diputati alla puntigliosa descrizione delle attività ciascuna ha un'offerta specifica che quindi la qualifica mi permetto di parlare per i miei colleghi anche poi mi correggeranno la la scuola di l'accademia di chigiana e ha questi corsi straordinari estivi con un'attività didattica molto intensa durante l'estate e la scuola di fiesole ha diplomi accademici l'accademia di imola ha laurea universitaria quindi l'offerta è eterogenea differenziata complementare e quindi non siamo altro che orgogliosi di poter anche confrontarci su questo tema a servizio dei nostri giovani le devo una risposta anch'io proprio sull'ultimo tema allora innanzitutto storicamente i docenti in alcuni casi docenti che che facevano un corso a fiesole oppure a imola in qualche caso anche alla chigiana magari con specializzazioni diverse ne potrei io sono a fiesole solo da otto anni ma già gli potrei elencare un lungo elenco ma la sua giusta osservazione mi permette di dire che io la vedo in prospettiva poi saremo intelligenti noi ma insomma anzi come una possibilità di razionalizzazione il caso che citava lei di quest'anno per l'appunto per la prima volta proprio avendo a che fare con questi interlocutori sapendo che cosa fanno hanno visto sì che rispetto alla richiesta della nostra direzione artistica di avere quel docente io ho potuto interloquire con Imola per chiedere se ci sarebbero stati problemi o se questo creava un come posso dire un elemento di non razionalità nell'offerta che tra l'altro comunque dico territorialmente siamo spostati cioè io credo che davvero un network di questo calibro qui non solo in futuro eliminerà possibili campanilismi e ritrosie a collaborare ma sarà il contrario andrà a razionalizzarla l'offerta formativa quindi da questo punto di vista come tutte le reti se sono fatte come nel nostro caso per comunicarci informazioni e progetti dovrebbe migliorare almeno quel panorama lì chiudo dicendo noi toscani che ci dipingete sempre come abilissimi a litigare fra un campanino e un altro e devo dire il nostro medioevo e non solo beh io devo dire che dal punto di vista musicale apriamo un'altra stagione ma le dirò di più la regione toscana nel nostro caso ha spinto e la fondazione bancaria Cassa di Risparmio di Firenze è il nostro grande sostenitore fin dal principio ha chiesto almeno da quando sono arrivato io che si incominciasse a uscire fuori dalle mura di Firenze che si incominciasse a fare progetti di rete regionali e nazionali quindi io sono estremamente positivo non solo di carattere ma in questo vedo una logica che si sta avverando una cosa mi sento di dire questo è importante anche a livello di comunicazione perché il nome federazione eccetera può creare naturalmente delle ambiguità questa non è una federazione di settore come possono essercene altre non è un'associazione di categoria questo è un patto federativo fra tre istituzioni quindi questo e naturalmente come diceva il maestro Puddu Giovanni la nostra logica è quella di collaborare di aprire rapporti senz'altro ma appunto resta un patto federativo su quell'altra cosa sono assolutamente allineato anzi devo dire questa è una metafora la FAMIT queste tre realtà uniscono due mari hanno una spina dorsale comune negli appennini e devo dire quindi due territori due regioni che hanno dato tanto e che mi sento di dire ripartono proprio dalla sinergia e dalla comune circolazione di idee e questo è importante perché riporta credo l'Italia ai suoi momenti migliori e ci dà fiducia e dà fiducia in quello che le nostre migliori risorse culturali e di spettacolo per quanto riguarda la grande musica possono produrre e ci fa guardare avanti con grande coraggio un'ultima cosa anch'io è chiaro che noi dobbiamo essere bravi poi a coordinare in un disegno comune tutte le azioni che andiamo a fare però se andate a vedere già il progetto speciale dell'anno scorso cioè il Kijimo la musica 2019 e poi andrete a vedere speriamo il più presto possibile anche il progetto 2020 che abbiamo fatto quest'anno abbiamo presentato quest'anno vedrete che uno dei punti qualificanti di questi progetti erano gli scambi con cui i nostri allievi andavano a studiare con docenti dell'altra istituzione e viceversa questo perché perché noi riteniamo che questo sia un po' raggiunto per i nostri allievi prima di tutto cioè il fatto di poter studiare con un grandissimo calibro un maestro chigiano storico della chigiana e poi confrontarsi anche con modalità di insegnamento fatte da un altro docente in un'altra istituzione per noi è un valore aggiunto perché crea a questo ragazzo la possibilità di confrontarsi anche con diverse esperienze formative e quindi anche performative anche di come presentarsi al pubblico e questo per noi è qualcosa che vale la pena anche sviluppare per il futuro altre domande? allora possiamo concludere questa bella riunione ringrazio tutti e saluto chi ci ha seguito a distanza tramite la web tv della camera grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti